Nuovo appuntamento con informazione di social pharma tabloid in questa edizione Bocciato emendamento vaccini in farmacia, lettieri, l'Italia ha perso un'occasione AIFA aggiornamento su modalità prescrittive del farmaco lirica Innovare e fare rete, la ricetta per non soccombere al capitale Regione Lombardia ha rinnovato accordo con le farmacie per l'utilizzo del SIS Federpharma Roma regala 15 defibrillatori alle società sportive della capitale Grazie a tutti